salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme la mattonella granny triangolare margherita l'abbiamo fatta di tutte le misure sul canale trovate quella classica quadrata esagonale pentagonale ora la faremo a forma di triangolo ho ricevuto tante richieste però ad essere sincera sto preparando un progettino proprio con questo tipo di mattonella prima di presentarvi materiale e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok dove cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciate un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzeremo cotone bianco giallo e turchese lo lavorerò con uncinetto numero tre poi avrò bisogno un paio di forbici iniziamo con il giallo per fare l'interno della nostra margherita quindi facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto tiriamo il filo facciamo una catenella filo sull'uncinetto entriamo nel cerchio e lavoriamo 6 mezze maglie alte 1 2 3 4 5 e 6 tiriamo la codina del cerchio rientriamo nella solina e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima facciamo una catenella aggiuntiva e tagliamo il filo stringiamo e abbiamo termini terminato la parte interna prendiamo il cotone bianco lo affianchiamo al lavoro così ci lavoriamo le codine entriamo qui c'è la chiusura nel punto della chiusura prendiamo il bianco e ce lo portiamo all'interno facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima scusate maglia altissima perché in questo caso due volte il filo sull'uncinetto dobbiamo lavorare cinque maglie altissime la prima è sostituita dalle 3 catenelle ne dobbiamo lavorare altre 4 nello stesso punto quindi 1 2 3 4 che con le 3 catenelle iniziali fanno 5 maglie altissime entriamo nella terza catenella iniziale così e ed entriamo nella solina che abbiamo appena lasciato tiriamo la solina all'interno della terza catenella così abbiamo creato il primo petalo 3 catenelle 232 volte il filo sull'uncinetto entriamo nel punto successivo qui ci portiamo dietro le due codine cos'è così le agganciamo e lavoriamo sempre cinque maglie altissime o cinque maglie alte doppie lavoriamo la terza la quarta e la quinta lasciamo entriamo nella prima prendiamo la solina stringiamo un pochino e ce la portiamo all'interno 3 catenelle e facciamo la stessa cosa per i restanti punti come vedete abbiamo un altro quindi abbiamo fatto due petali dobbiamo lavorare il terzo il quarto il quinto e qui alla fine il sesto lavorati i nostri sei petali abbiamo fatto le ultime tre catenelle e andiamo qui nell'unione del primo petalo e ci chiudiamo con maglia bassissima catenella aggiuntiva tagliamo il filo stringiamo abbiamo creato la nostra piccola margherita ora dobbiamo fare il contorno triangolare in questo caso lo faremo con il turchese sistemiamo il filo sempre allineato con la codina finale del bianco entriamo nella solita nel nello spazio subito dopo la chiusura ci prendiamo il filo all'interno e ci lavoriamo tre catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta potete farne due o tre perché la sostituzione della prima maglia alta si può fare sia con tre catenelle e sia con due entriamo nuovamente nello spazio lavoriamo altre due maglie alte 3 catenelle di separazione entriamo nuovamente nello stesso spazio e facciamo lavoriamo tre maglie alte e abbiamo realizzato il primo angolo continuiamo filo sull'uncinetto entriamo nello spazio successivo e lavoriamo tre maglie alte 1 2 e 3 nel nello spazio seguente ora lasciamo i fili guardate le codine che sono qua e l'abbiamo agganciate possiamo tagliarle direttamente così non ci daranno fastidio nello spazio successivo dobbiamo lavorare l'altro angolo quindi lavoriamo tre maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 entriamo nello spazio successivo e lavoriamo nello spazio successivo e lavoriamo 3 maglie alte quindi la parte laterale quindi la parte laterale 3 nello spazio seguente lavoriamo l'ultimo angolo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle e 3 maglie alte e 3 maglie alte nello stesso spazio 1 2 e 3 nell'ultima nell'ultimo spazio che abbiamo lavoriamo 3 maglie alte 2 e 3 alla fine terminiamo inserendoci nella terza catenella e realizzando una maglia bassissima e qui abbiamo fatto guardate il primo giro della nostra lavorazione triangolare ci spostiamo con maglia bassissima quindi realizziamo per ogni maglia una maglia bassissima ed entriamo nell'angolo con maglia bassissima lavoriamo 3 catenelle e 2 maglie alte quindi le 3 catenelle ci sostituiscono sempre la prima maglia alta 3 catenelle di separazione e 3 maglie alte 1 2 2 e 3 entriamo entriamo fra l'angolo il primo gruppetto e lavoriamo un gruppettino di 3 maglie alte 3 maglie alte 2 2 e 3 qui fra l'angolo e lo spazio lavoriamo altre 3 maglie alte 1 2 e 3 nell'angolo lavoriamo l'angolo come abbiamo appena fatto 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte l'altro angolo qui 3 maglie alte 3 maglie alte e arriviamo così alla fine arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella terza catenelle iniziale con maglia bassissima io in questo caso taglio il filo però se volete fare il triangolo più grande voi potete continuare lavorate le due maglie bassissime ed entrate nell'angolo e lavorate l'angolo come abbiamo appena fatto quindi 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte e poi per ogni spazio fra i gruppetti lavorate le 3 maglie alte angolo gruppetto 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 angolo gruppetto 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 e continuate così in fin quando volete far grande il vostro triangolo io in questo caso mi fermo vi ho solo spiegato come si fa a continuare faccio una catenella aggiuntiva e taglio il filo lo aggancio sistemate ecco basta far così sistemate il vostro triangolo ed ecco qua il triangolino fatto tagliamo i fili in eccesso quindi alcuni già li abbiamo tagliati vediamo gli altri questi quello centrale e poi questo qui che abbiamo qui dove abbiamo appunto terminato facciamo passare o con l'uncinetto con un ago il filo in alcuni punti della lavorazione e poi lo taglieremo vi do subito le misure della nostra mattonellina triangolare misura 8 cm e mezzo quindi tenete conto comunque con il cotone io in questo caso utilizzate il fiocco e uncinetto numero 3 e la mia mano di lavorazione quindi sono 8 cm e mezzo per ogni lato quindi all'incirca quindi all'incirca vi possono utilizzare per tantissimi progetti che vanno dall'abbigliamento potete realizzare portamonete portamonete borse se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita vi do appuntamento al prossimo video grazie 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 grazie